Si è inaugurata a Favignana la nona edizione della History and Politics Summer School, organizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Palermo. L'evento, che si svolge per il secondo anno consecutivo presso l'ex stabilimento Florio, accoglie rinomati studiosi e ricercatori internazionali, focalizzandosi sul tema attualissimo della cyberpolitica e dell'intelligenza artificiale. I lavori sono stati aperti dall'intervento del Direttore Generale dell'Agenzia per la Cyber Sicurezza Nazionale, Bruno Frattesi, il quale ha messo in luce le sfide emergenti nel campo della sicurezza digitale. Il tema di quest'anno è davvero particolare perché affrontiamo un tema delicato, sensibile, come quello della sicurezza informatica, ovvero della cyber security, intrecciata con i temi dell'intelligenza artificiale. Sono temi che riguardano le relazioni internazionali, le scienze politiche, i rapporti tra gli stati e anche tra le agenzie private. Quindi riguarda la sicurezza degli individui, delle comunità, degli stati. Oggi iniziamo un percorso, una scuola estiva, con prestigiosi relatori e autorità del mondo della cultura, dell'accademia e delle istituzioni. Tra i relatori anche il bescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli ed il sindaco di Favignana, Francesco Forgione. Credo che la scelta di Favignana sia importante perché è la scelta di chi vuole parlare da qui, dal cuore del Mediterraneo, all'intera Europa in termini scientifici, di ricerca, di analisi sociale e culturale. I temi che si affrontano qui con l'Università di Palermo, assieme ad altre reti di ricerche universitarie, c'è stata la prolusione del Presidente dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Cibernetica, sono temi che riguardano l'attualità della politica oggi, l'attualità del confronto parlamentare, il confronto anche sui temi etici, morali, religiosi, come spesso ci richiama Papa Francesco, anche sui temi dell'intelligenza artificiale. La Summer School proseguirà fino a sabato offrendo un'importante piattaforma di confronto su questioni di attualità politica e tecnologia in un momento storico di grande trasformazione.